E' una grande iniziativa, un grande evento, un evento mondiale delle Nazioni Unite sul tema del sviluppo sostenibile del futuro delle città. L'abbiamo voluto fortemente tenere qui, tenerlo a Napoli, tenerlo in Campania, finanziarlo come regione. Napoli è per molti aspetti il punto di riferimento di tutte queste domande che a livello mondiale si impone nelle Nazioni Unite, quindi la struttura Habitat viene più comunemente ricordata così, ma di fatto è un grande contenitore di idee che le Nazioni Unite offre al mondo in termini di discussione sui grandi temi delle città e dello sviluppo delle città. Tutte le questioni che si affrontano, tutte le domande meritano una risposta. E' Napoli e la sua città regione perché Napoli è piccola nel suo perimetro urbano ma è grandissima nel suo perimetro metropolitano perché sono quasi 4 milioni di abitanti e di cittadini che meritano risposte come le Nazioni Unite e il forum pongono al mondo. I grandi temi della mobilità, dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, i grandi temi di una città del futuro, dell'housing, della sanità, della mobilità, dell'housing social, tutti i temi che noi come regione stiamo affrontando. E farlo da noi, farlo in questa grande città è proprio un punto di riferimento in termini di risposte possibili. Calco molto su questo, è un straordinario evento, sono in pochi a poterlo avere, quindi dobbiamo molto rimarcare questa fiducia che ci dà da parte delle Nazioni Unite e di discutere di questi grandi temi a Napoli insieme al Ministero degli Esteri che ci affianca perché è comunque un evento internazionale, quindi devo ringraziare il Governo e il Ministero degli Esteri.